Interviene l'assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, Mino Borracino. Domani, mercoledì 24 ottobre, parteciperò con grande entusiasmo alla cena con i consiglieri regionali organizzata a Bari dalla comunità LGBT per accendere i riflettori sul disegno di legge in materia di omotransfobia in vista della discussione in aula che avverrà nelle prossime settimane dopo il parere positivo espresso in sede referente dalla Commissione competente. Ritengo che questa sia un'iniziativa molto utile al fine di approfondire in un contesto informale e conviviale e quindi in un clima sereno e lontano da ogni condizionamento ideologico i contenuti del disegno di legge predisposto dal Governo regionale e mi auguro che l'invito rivolto dagli organizzatori a tutti i consiglieri regionali sia raccolto da molti miei colleghi anche e soprattutto da chi ha espresso un orientamento sfavorevole a questa proposta in modo da poter chiarire eventuali dubbi e spiegare nel dettaglio l'utilità quando non proprio la necessità in Puglia di una disciplina di questo tipo. L'omotransfobia infatti è una triste realtà anche nella nostra regione e si traduce spesso in episodi di vera e propria discriminazione, prevaricazione o bullismo che feriscono profondamente anche più delle violenze fisiche. Per questo è indispensabile diffondere una cultura del rispetto verso ogni forma di diversità, soprattutto per chi intende esprimere liberamente il proprio amore. Ecco, conclude Borracino, io ritengo che all'appuntamento con il voto in consiglio regionale tutti noi dobbiamo arrivare con la consapevolezza profonda che andremo ad incidere sulla vita reale di migliaia di persone che aspettano da tempo queste norme anche come una forma di riconoscimento per le loro stesse esistenze. Per tutto questo io a questa cena non mancherò.